La regione è pronta all'accoglienza, stamani si è fatto il punto della situazione con i prefetti mentre il vice governatore Riccardi fa sapere che la protezione civile regionale si sta organizzando per contribuire al trasporto di una decina di bambini oncologici che devono uscire dall'Ucraina per essere accolti al burlo di Trieste. Sentiamo Giuliano Sadar. Sono 3.000 sinora i cittadini ucraini transitati lungo i confini della regione. La maggior parte ha proseguito altrove, una sessantina è rimasta. Sono i dati messi a disposizione del commissario del governo annunziato Vardè dopo l'incontro in videoconferenza in prefettura Trieste con gli altri prefetti, il vice presidente della regione Riccardi, l'assessore all'immigrazione Roberti e rappresentanti della polizia ANCI e UNHCR. Si è parlato soprattutto dell'immediato in attesa di capire il vero peso della crisi umanitaria. Intanto noi ci siamo posti l'obiettivo di mettere a disposizione nell'immediatezza 200 posti per quanto riguarda la provincia di Trieste, ma lo stesso stanno facendo i colleghi delle altre province. Saranno in ogni caso le prefetture a gestire la macchina dell'accoglienza, due posti di ristoro di primo ingresso a Fernetti e Tarvisio. Se sarà necessario si renderanno disponibili alberghi e alloggi convenzionati. Si è parlato anche della situazione sanitaria dei profughi, considerando che in Ucraina solo il 30% della popolazione è vaccinata contro il Covid. È necessario che coloro i quali non siano in possesso di un grip pass riconosciuto dalla Stato italiano servino il periodo di quarantena che secondo l'ultimo decreto del ministro della Sanità è di cinque giorni. Il vice governatore Riccardi ha poi specificato che la sede della protezione civile di Palmanova dovrebbe essere uno dei due hub nazionali di raccolta e smistamento farmaci. Squadre sono pronte poi a partire per organizzare un campo d'accoglienza per i profughi, probabilmente in Polonia, con 250 posti letto. Previsto poi l'arrivo all'ospedale Burlo Garofalo di una decina di bambini oncologici, anche il Crodieviano ha disponibilità. Per quel che riguarda le risorse, la regione decreterà lo stato d'emergenza con un primo stanziamento necessario ad affrontare le prime spese. Grazie.